ma tu oggi sai davvero dove stai andando sai verso quale meta è orientata la tua vita qual è il senso la direzione di ciò che fai il perché di ogni evento passato e di ciò che stai vivendo oggi se non lo sai viene oggi a te la vergine maria a prenderti per mano per salire con lei dove lei è stata assunta in cielo lì con il suo corpo con tutta la sua storia difficile da capire piena di contraddizioni e sofferenze come la tua è come salire in montagna e scalarla sino alla vetta che fatica quanti momenti in cui stanchissimi senza forze vorremmo mollare tutto quanti passi senza vedere nulla quando la cima la meta scompare ti trovi a camminare in un bosco buio o addirittura per alcuni tratti devi scendere invece di salire e ti sembra tutto assurdo ma una volta sulla vetta che spettacolo che meraviglia appare ai tuoi occhi e sì che ne valeva la pena no così con gli occhi di maria occhi celesti con quelli che ti dona la chiesa attraverso la predicazione e l'ascolto della parola di dio i sacramenti le sue cure materne scoprirai piano piano che sì ne valeva la pena valeva la pena ogni lacrima valeva ogni sofferenza ogni evento assurdo perché ogni passo deposto nella tua storia ti ha condotto al cielo così come scoprirai che il tuo corpo come quello di maria è preziosissimo e non puoi disprezzarti è santo perché vi abita cristo che cammina con te e ti apre il cammino prendendoti per mano e sulle spalle quando proprio non ce la fai non siamo nati per finire nel nulla siamo nati per camminare verso il cielo perché come maria siamo nati per cristo che è il nostro cielo e che prego siamo già qui come l'aria pura che si respira in vetta che sperimentiamo quando apriamo gli occhi sul suo amore che ci colma e ci spinge ad amare dando così sostanza e senso a ogni passo della nostra vita